Lui lavorava come operaio proprio sulla linea di produzione a Melfi, stava, non mi ricordo dove, abbastanza avanti sulla linea, come montaggio, l'assemblaggio, la lastratura, la laccatura, lui stava dopo la laccatura, che ci sta dopo la laccatura? Luca, dopo la laccatura che ci sta? L'agopatria. L'agopatria? L'agopatria. L'agopatria, che agumana, dopo la laccatura. L'agopatria. L'agopatria? No, no, sono la Domiziana. Ma qua è Domiziana. L'agopatria. 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 L'agopatria.